Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Pietro Savaia e oggi siamo su IT1 Allora, questo gioco bisogna dare pugni agli avversari Io ho giocato, infatti sono a livello 3, ho giocato molto a questo gioco oggi L'ho installato perché l'ho visto in una pubblicità, ho visto che è molto carino, quindi ho detto Mi sembra carino questo gioco, perché non lo installiamo? Poi ho giocato, ho giocato e mi è venuto in mente di fare un bel video E non dovete cascare di shot perché gli avversari mi possono far volare Aia, come adesso, adesso faccio volare qualcuno Eh, signori, mi volete far far volare perché così faccio vedere ai miei fan almeno Eh, quello che succede Spero che conoscete questo gioco ed ecco quello che succede quando si dà un bel pugno Guardate, ciao ciao personaggio Allora Cos'è questa roba? Ah Vabbè Ok Allora, ritorniamo Spero che Credo che qualcuno di voi conoscerà questo gioco No, le donne nude, io non le voglio le donne nude, soprattutto se sono vecchie Vabbè, non importa, anche se era giovane e non la volevo, quindi dovevo buttarla Perché qua bisogna avere i vestiti Vabbè, quella là ha il costume Però non è bello da vedere Dai, ecco, la panchina è andata Ora, ora, se do un pugno a uno di loro Cadranno giù Ma spero, ma credo che ovviamente voi l'avreste capito Perché io so che i miei fan capiscono tutto E Aia, no, no Aia, che vo Aia, che facciata Ma, ma due donne Ci sono Ci sono due donne nude Cioè, qua va bene se ci sono donne in questo livello Però almeno non mudo Cioè Sì, hanno il costume, però No Io non è che sono tanto bravo a questo gioco Infatti i livelli sono stati difficili, avete visto? È caduto Ecco, anche quello è caduto Eh, tra poco cado anch'io Ecco, siamo rimasti solo noi due E E visto che Siamo un duello Io voglio andare qua Ah, ma c'è un altro Allora no Non l'ho vista Tiè Ah Se vedete i numeri È per È per Sono le vite che hai Se arrivi a 10 Cioè Dopo Se superi 10 Cioè Cioè Se vai Ai 10 Ti compare una X sopra Quindi Vuol dire che con un colpo Morirete Ma Ma credo che voi lo capite Adesso Se Se non cade Ve lo faccio vedere O se non cado io Perché ve lo voglio far vedere Dai Ecco Allora Ancora 9 Aspetta Devo farla andare via Da lì Perché ci sono i buchi Non voglio No E vabbè Guardiamo una pubblicità Siamo i buchi Siamo i buchi Siamo i buchi Siamo i buchi Coin Master More than just a game Allora È finita la pubblicità Eh mamma mia Sono andato a Verona La Comunque Revive Ecco Avete capito Ecco Allora Spero che avete capito il gioco Se volete installarlo È gratis Per Play Store Mi lascio in descrizione Per trovarlo E muori E fattene E muori E prendi Quest Aia Tiè Tiè No Aia Donald Trump Con il vestito Troppo elegante Donald Trump È ricco Quindi è per forza Vestito elegante No Aia Che botta La testa Non ci sto più capendo niente Perché ho preso La botta la testa Uh troppo Ecco Uno volato E Pam Aia Ora Li ammazziamo Ecco Il calcio Nel sedere Così imparate A picchiare Pietro E i suoi fan Aia Aia Doppio calcio Ma prendete Ecco Quello là Ha dato un calcio A uno Cioè Donald Trump E Si ha fatto volare Da sola Eh Questo è quello che succede Quando si picca Donald Trump E muori E battere E muori Anche Eh tra poco Muoio E muori Bel volo Eh Boom Ecco Doppio Pugno Cioè doppia Kill No kill Doppio colpo Una combo Aia Sola 6 Non è un buon segno Uh E con sopra 7 Facciamola andare a 8 Che già almeno muore Poi Allora Eh No Anche a te A te ti faccio Donald Trump È quello con 8 Donald Trump È stato colpito Di più E vola Aia Tra poco Non far volare Via Donald Aia No Non devi volare Personaggio No Perché non mi ascolti Allora 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 Posso annullare Grazie No Allora Ok Andiamo 3 2 3 E muori Ecco Dove fare Anche Aia Che botta No Non mi Non mi deve cadere Il pallone addosso No C'era dentro una bomba Quella scatola Perché esplosa Mum Anche a te Aia Che botta Addio Fino qua Tiè Aia Eccolo Lì si è vendicato Perché è il proverbio Non si picchiano le signore Non sto capendo più niente Tra poco muoio Perché non riesco più Non mi fanno alzare Aia Il calcio Che pò Che sto prendendo Tiè Popo P-L-Z Papà Tiè E E E Anche Te Tu Mi hai fatto Sprecare Un calcio Così guadagniamo Soldi Ma io Adesso Mi sono Infugato E ti voglio Far volare Però se è quello con di più Quindi devo far vedere I miei fanno Come voi Ovviamente Cosa succede Quando c'è la X Quindi Facciamola andare a nove La fanno Passare Questo qua Tiè Aia No L'ha fatto volare No Sta arrivando Da me Via Via No No Mi sa che quello là è volato No è lì Eccolo La mi sa che è volata No Non è volata Eh mamma Ah mi hai abbracciato Ma non oggi No Ecco visto C'era la X No No Non voglio farvi vedere Un'altra pubblicità Comunque Allora Facciamo un'ultima partita E poi Chiudiamo il video Che ne dite Vi ricordo Di lasciare Un video In descrizione E vi ricordo Di iscrivervi al canale E di lasciare Almeno Arriviamo A 10 like Perché questo è il mio primo video Arriviamo A 10 like Arriviamo A 10 like Se volete Se volete Che a tutti i costi Mi spattano La spira dorsale E così Almeno Muoiono E sono morto io Vabbè Allora Questo è il gioco Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate Lasciate tanti like Come ho detto E Niente Ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao Togliamo qua Ciao ciao